Tutta colpa della pratica di pescaggio? Intendiamoci, se dovesse arrivare la Serie C tanto meglio, ma quello che è servito per attivare la pratica rischia di far saltare tutte le trattative che finora erano state messe in atto. Un mese fa, proprio in occasione della presentazione del nuovo allenatore Marco Mariotti, fu lo stesso devito, al termine della stessa, a fare capire che l'intesa con Scotto e Ferri Marini era stata trovata. Poi, cammin facendo, qualcosa non è filato a dovere. Dieci giorni fa, prima, ha salutato Scotto, che a quanto pare ha alzato la posta al momento della firma. Stesso discorso per Ferri Marini in seguito del mese di maggio. L'attaccante, che tra l'altro è di Sansepolcro, avrebbe accettato di buon grado il trasferimento ad Erezzo. Ieri non era però tra i giocatori che hanno fatto le visite mediche a Roma. Sembra che una società neopromossa in Serie C gli abbia proposto una cifra irrinunciabile. Della serie, grazie Erezzo, ma vado a giocare da un'altra parte. Nei giorni scorsi era circolato il nome di Sparacello, un nome che non ha un grande score come Golador, mentre Foggia arriverà solo in caso di Serie D. Non sono scelte facili a poche ore dalla ripresa.